vai, no sopra, ma niente è questa che è un po' stupida, è solo che questo è stretto devi usare quello lì, bravo, giù fino a lì, sopra il sasso, va più di dietro e sopra questo, la chiudi tutta e esci dietro il sasso dai, riprova, riprova è solo quello lì che è un po' stupida, ma che io ti vedo lo stesso devi usare quello sperone lì buona, basta bene andiamo, te giri intorno, tu giri intorno, non fai il tronco no, lui il tronco no, te il tronco no, quando arrivi qua giri qua e vai su qui c'era, qui c'era, noi, o chi vale vai il tronco, o chi non vale passa, vai vai, vai, vai vieni, devo provarla bene allora il tronco, se vuoi, possiamo fare una variante senza tronco allora l'impostazione va bene, dagli il colpo di modo che il dietro ti atterra lì e poi salti questo strumento ci sia a qualche cosa ma a questi non gli fa niente va bene ma a questi non gli fa niente 5 Prova Dai Minchia 5 Scorps, 6 Scorps Bravo Non avere paura Non è facile fare come fa lui Dai prova tu a saltare giù così Non riesco Bella lì Allora quando la punti Punti il ciocchetto E poi devi saltar fuori Ma che va metti il GPS Te evitalo che è meglio Fai solo il resto Qua ci giri intorno Prima che fai qualcosa al ginocchio Bravo Giù dove c'è il blu e poi sali eh Non l'allarga neanche L'allarga neanche Crrrr 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 Grazie a tutti.